Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Tragedia sfiorata a Toretta di Fano una donna entra in acqua col mare mosso e rischia di annegare salvata dal bagnino Con il mare in burrasca salta la tradizionale uscita in mare con le barche il lancio della corona dall'oro per ricordare i caduti effettuato dal molo La regione Marche ha scelto con un app il sito dove costruire il nuovo ospedale il risultato è stato inviato in una busta al presidente di Arevasta Le immagini spettacolari di un capriolo in giro per la città catturato è stato portato in aperta campagna ma è morto Sarate ricche di eventi stasera Montecucco grigliate in festa e poi la festa di Borgo Cavour in giro per Fano Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Come sempre la cronaca in primo piano andiamo subito a Pesaro dove un operaio si è infortunato e adesso è ricoverato alla torrette di Ancona ha ceduto il solaio ed è caduto a terra un muratore di 22 anni romeno abbattuto violentemente la testa dopo essere precipitato da 3 metri per la gravità delle ferite è stato necessario far intervenire l'eliambulanza per il trasferimento del giovane all'ospedale di Ancona il 22enne è in prognosi riservata sul posto i carabinieri e gli ispettori dell'Aso e adesso invece a Torrette a Torrette di Fano dove ieri una donna una donna di 38 anni Umbra è stata salvata da morte certa aveva deciso nonostante il mare mosso di tuffarsi in acqua Una distrazione o una sopravvalutazione dei propri mezzi quando si tratta di mare può costare cara lo sa bene una turista Umbra che per fare un bagno tra le onde ieri pomeriggio ha rischiato di perdere la vita annegando a strapparla alle onde alla morte certa un giovane bagnino di 19 anni Mattia De Pascalis di servizio ai bagni Alda di Torrette che l'ha caricata a forza sul suo pattino ormai allo stremo delle forze e dopo aver ingerito tantissima acqua Ieri il mare era in bello mosso quindi diciamo che siamo stati sempre un po' in allerta ho visto questa donna che si era allontanata inizialmente faceva il bagno con la figlia e poi ho visto che è rimasta da sola e si allontanava man mano andava sempre più a largo da lì comunque sia mi sono allarmato e quindi ho preso il pattino per andarla a richiamare col fischietto ho iniziato a fischiare e ho visto che non dava risposte e niente non era del tutto cosciente però comunque sia non era neanche svenuta diciamo fortunatamente è andato bene è andato tutto per il meglio e niente sono contento di com'è andata il mare va rispettato e temuto e soprattutto non dobbiamo mai sottovalutarne la sua pericolosità in caso di bandiera rossa un segnale preciso che molti per spavalderia o incuranza sottovalutano ma che ignorarlo può costare molto caro cosa vuol dire la bandiera rossa? quella bandiera che vedete non è soltanto per bellezza ma vuol dire che ci sono condizioni meteomarine sfavorevole per una bagnazione in sicurezza oppure vuol dire che in quel momento lì non c'è un servizio di salvataggio quando si vede quella bandiera è consigliabile a chiunque anche ai notatori esperti di non fare il bagno perché ci sono delle condizioni veramente particolari o pericolose ecco il bagnino quando c'è l'addetto al salvataggio è tenuto a intervenire anche mettendo a proprio rischio il repentaglio la vita insomma sì allora il soccorritore in generale qualsiasi soccorritore deve intervenire però non deve mettere mai al repentaglio la propria incolumità perché allora a questo punto è meglio una vittima che due vittime perché il soccorritore deve soccorrere le persone quando ci sono le condizioni per soccorrere e i mezzi che abbiamo ecco perché alle volte passa il messaggio sì vabbè c'è la bandiera rossa c'è il bagnino vado uguale no questo messaggio non deve passare non è perché c'è la bandiera rossa ah c'è il bagnino io sono sicuro no perché comunque gli scenari che si possono aprire in un momento di soccorso o in un momento di pericolo sono variabili cioè dal ragazzino all'adulto alla persona sovrappeso alla persona così cioè possono variare possono essere uno, due, tre contemporaneamente il bagnino è uno anche se sa fare il proprio lavoro non è un supereroe e non dobbiamo delegare a lui la nostra incolumità quindi vi raccomando lo fate per noi ma lo fate anche per voi diffondiamo questo messaggio di cultura per favore fate attenzione se ci sono condizioni non favorevoli non fate il bagno aspettate un attimino voi fate la doccia il mare mosso ha rovinato la festa del mare soprattutto la parte suggestiva del lancio della corona in mare per ricordare i caduti una giornata importante perché è una festa molto sentita dalla città che lega questo legame storico che c'è fra il mare il porto e la città stessa ma è un modo anche per vivere tutto quello che il mare rappresenta attraverso tutto il mondo della marineria della pesca ma quello che ci sta dietro alla nautica insomma tutto quello che è il mondo plurale del mare e del porto ma è anche un'occasione per ricordare i caduti coloro che non ci sono più che per spirito di servizio per il lavoro che svolgevano sono caduti in mare una comunità non li dimentica li porta sempre nel cuore ma è anche un'occasione per guardare le sfide del futuro per guardare avanti e questo è un po' il significato della festa del mare e il significato delle tante presenze che ci sono state in questa celebrazione ufficiale La Regione Marche ha concluso l'iter per l'individuazione del sito dell'ospedale unico della provincia di Pesaro e Urbino dunque la Regione Marche ha scelto dove costruire questo nuovo ospedale e lo ha fatto attraverso un'applicazione realizzata dal servizio informatica ed è stato così individuato il punto baricentrico dove costruire il nuovo ospedale dell'azienda ospedaliera Marche Nord Ceriscioli ha detto nell'impossibilità di arrivare a una sintesi politica la Regione ha autorizzato questa app per raggiungere una scelta più tecnica e oggettiva possibile che nel caso in cui dovesse servire tra l'altro verrà utilizzata anche per individuare i siti più idonei per altri due ospedali da costruire nelle province di Macerata e Ascoli Piceno il risultato è già stato inviato quindi il nome del luogo il nome del sito dove verrà costruito il nuovo ospedale di Pesaro e Fano è già stato scelto è stato scritto in una busta ed è stata inviata al presidente della conferenza dei sindaci di Area Vasta 1 Maurizio Gambini a chiudere la partita sarà la prossima dunque assemblea dell'Area Vasta che potrà decidere criteri sulla base dei quali ridurre i tempi di percorrenza dei siti per non influenzare la scelta i file con tutti questi risultati già in possesso del sindaco Gambini potranno essere la busta potrà essere aperta solo dopo che l'assemblea avrà fissato i criteri correttivi nel caso in cui però l'assemblea non dovesse trovarsi e mettersi d'accordo si potrà comunque mostrare la tabella che di fatto costituirà la scelta del sito raggiungibile in meno minuti il percorso si è chiuso e sarà un concorso fra i tempi misurati oggettivamente della regione e i criteri che i sindaci si vorranno dare a determinare il nuovo sito dell'ospedale rimanendo sempre in tema di sanità andiamo a Fano dove è stata inaugurata la nuova struttura di ostetricia dell'ospedale Santa Croce di Fano oggi è una giornata molto importante per l'azienda ospedaliera Marche Nord e per l'ospedale di Fano perché praticamente andiamo a inaugurare a rappresentare quello che è il percorso donna percorso rosa grazie alla ristrutturazione del nuovo reparto di ostetricia ginecologia dotato di tutti i comfort con un nuovo nido con le nuove sale parte travaglio oltre che con nuove stanze di degenza e a fianco a questo oggi presenteremo il nuovo responsabile dell'unità operativa Senologia Breast Unit dottor Cesare Magalotti allievo del professor Veronesi ringrazio il presidente della regione dottor Ceriscioli la dottoressa Capalbo per avermi dato la possibilità di arrivare a Fano nell'ospedale di Fano ha istituito un'unità di senologia stiamo lavorando in piena attività da un mese e mezzo abbiamo eseguito 85 interventi chirurgici di cui 72 per tumore alla mammella abbiamo mobilità da fuori regione circa del 50% tutto sta procedendo nel miglior modo io sono molto felice tutto procede come volevo l'inaugurazione importante al Santa Croce in attesa ovviamente di andare tutti nei prossimi anni in un'unica casa si continua ad investire questo è un fatto molto significativo anche da spiegare gli ospedali sono macchine a ciclo continuo devono offrire prestazioni ai massimi livelli non è possibile pensare di lasciare strutture che non siano il top quindi si continuano a fare investimenti oltre un milione per quanto riguarda la riqualificazione dell'ostetricia ginecologia anche sapendo che fra qualche anno andremo in una casa nuova perché dobbiamo sempre offrire ai cittadini il massimo poi andiamo su livelli di alto profilo come quello della breast unit ovvero l'intervento per il tumore al seno è già operativa a struttura complessa quindi significa mettere in questa struttura uno dei servizi di maggior qualità che si offrino a livello regionale su questa materia accompagnato da tecnologie grazie agli investimenti fatti dalla regione e grazie agli investimenti offerti dalla fondazione Cassa di Risparmio che accompagnano queste scelte potendo offrire ai pazienti il massimo dal punto di vista tecnologico nelle Marche nasceranno due nuovi comuni sono il comune di Colli Rovereschi e Cittanuova al Metauro sono due comuni che nasceranno nella provincia di Pesaro e Urbino e nasceranno dalla fusione dei comuni di Barchi Orciano di Pesaro Piagge e San Giorgio di Pesaro questi comuni si chiameranno con il nuovo nome Colli Rovereschi e l'altro invece Cittanuova al Metauro nascerà dalla fusione dei comuni di Montemaggiore al Metauro Saltara e Serungherina entrambi istituiti a decorrere dal primo gennaio 2017 adesso si tratterà di fare un referendum continuano le incursioni dei caprioli nei centri abitati adesso vi facciamo vedere delle immagini davvero straordinarie spettacolari a dire il vero speravamo di raccontarvi una storia a lieto fine purtroppo non è andata così professore allora aumentano le apparizioni di caprioli nei nostri giardini è una presenza che ci deve meravigliare oppure la dobbiamo considerare come una normale questione di vita quotidiana normale meraviglia di vita quotidiana ci meraviglia perché il capriolo è una specie naturale e si espansa naturalmente dall'inizio degli anni settanta dalle foreste casentinesi dove era presente lì da tantissimo tempo e quindi si diffonde naturalmente meraviglia perché chiaramente prima era stato estinto e quindi pian pianino ha riconquistato questi territori meraviglia anche perché si pensa sempre che questi qui siano animali da bosco chiudilo non siamo in Walt Disney non è Bambi eccetera eccetera e quindi il capriolo è un piccolo cervide che dà ambienti proprio tipo i nostri delle colline marchigiane e altro quindi questi frammentati con un po' di boschetti un po' di un po' di campi coltivati un po' di incolti eccetera eccetera quindi a partire da quegli anni ha trovato un ambiente favorevolissimo per diffondersi e l'ambiente fino al mare quindi non meraviglia Fano non meraviglia Pesaro non sono cose particolari è un gli animali hanno sempre convissuto con l'uomo quando l'uomo li lascia a vivere questa è la motivazione forse perché le loro presenze sono più diradate nel tempo rispetto a che in passato ma qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo tenere in presenza di questi animali perché loro sono per noi una presenza per alcuni di noi forse meno frequente rispetto ai nostri qual è il giusto atteggiamento da tenere il giusto atteggiamento io penso che sia un pochino quello che tengono hanno tenuto sempre gli anglosassoni cioè di convivenza rispetto e convivenza ne sono sempre animali selvati se non gli si fa caro caro perché non è giusto non li si deve spaventare sono belli da un certo punto vanno lasciati in pace e purtroppo la storia di questo capriolo non è a lieto fine perché quando i vigili del fuoco che hanno fatto un lavoro straordinario umanamente e professionalmente lo hanno liberato in aperta campagna purtroppo il capriolo poco dopo è morto e adesso andiamo invece alla gola del furlo dove il nuovo punto IAT verrà gestito dal proloco del posto il furlo è una delle mete se vogliamo per amanti della natura insomma dello spazio aperto più gettonate che abbiamo nel nostro territorio anche questo è prossimamente sarà gestito dalle proloco sì devo dire che grazie alla provincia di Pesorubino e nella sua persona del presidente Daniele Tagliolini che crede fortemente nelle proloco della nostra provincia quindi si sta impegnando tantissimo per la promozione di tutte le proloco del territorio provinciale quindi avremo in gestione la proloco del furlo il suo presidente Alvaro Guazzaroni avrà in gestione il centro IAT quindi il front office della riserva del furlo quindi ecco è anche un altro modo per aiutare le attività turistiche e le attività commerciali di questo territorio grazie sempre grazie ai volontari che la proloco del furlo ha messo in campo e quindi anche qui si può vedere come le proloco della nostra provincia stanno cambiando e si stanno modificando e dico con grande soddisfazione che si parla sempre e si critica della proloco uguale la salsicciata non è più così nella nostra provincia devo dire che sta cambiando tantissimo e si stanno evolvendo talmente tanto le cose che ormai sta diventando veramente le proloco stanno diventando veramente un punto di riferimento turistico di valorizzazione e di promozione del nostro territorio veramente molto importante e allora adesso apriamo la pagina degli eventi cominciamo con In Gir Per Fan In Gir Per Fan la proloco ha istituito un concorso di pittura tra dilettanti pittore per un giorno ed una asta di beneficenza visto il successo dell'iniziativa ci sono buone notizie per chi vuole partecipare fra pochi giorni ancora una volta In Gir Per Fan ma all'interno di In Gir Per Fan c'è un concorso un concorso artistico come sta andando? ma sta andando bene il concorso è pittore per un giorno quest'anno l'input che abbiamo voluto dare alla manifestazione è quella proprio dell'arte pittorica quindi questo concorso pittore per un giorno va bene siamo contenti della risposta degli artisti insomma che si sono iscritti e che quel giorno si dislocheranno in dei punti della città per dipingere la loro opera siccome che molti ci hanno chiesto appunto di poter prorogare le iscrizioni perché alcuni l'hanno preso di questo concorso solo negli ultimi giorni abbiamo deciso di fare così quindi l'iscrizione è prorogata mercoledì 10 per tutti coloro che si vogliono adoperare in questa cosa anche perché abbiamo capito che molti artisti ci tengono a rimanere un po' nell'anonimato ad essere nascosti quindi solo negli ultimi giorni hanno maturato la voglia di venire a pitturare nella nostra città ecco poi tra l'altro c'è anche una bella notizia sempre in ambito artistico di qualche insomma pittore più affermato e quotato che ha deciso di metterci del suo sì non diciamo il nome perché lui ci tiene a rimanere nell'anonimato però veramente una bellissima cosa perché innanzitutto tutte queste opere verranno messe in esposizione durante la passeggiata degustativa in gir per fan e questo artista sa benissimo che poi le opere verranno verrà fatta un'asta di beneficenza ha deciso di donarci un'opera quindi un'opera anche molto quotata anch'essa verrà messa in esposizione ovviamente non sarà in concorso ma comunque varrà messa anche questa all'asta e tutto quello che ricaveremo da quest'asta verrà data ad un'associazione di volontariato locale quindi veramente è una bella opera da parte di quest'artista a questo punto aperta una porta se ci sono artisti fanesi anche quotati che volessero dedicare una loro opera a pittore per un giorno e a metterla all'asta insomma sono i benvenuti possono contattare direttamente la Proloco o la Concommercio di Fano Allora questo per quanto riguarda In Gir per Fan invece a Montecucco a Montecucco c'è la grigliata in festa e c'è il nostro inviato Lino Balestra collegato con noi buonasera Lino in diretta buonasera sì buonasera Marco io spero che buonasera a tutti gli spettatori spero che le immagini di Fabio Turiani riescono a scogliere gli splendidi colori che ci sono laggiù in fondo quelle sono le colline altistanti a Montecucco noi siamo nel nel piazzale del ristorante appunto Densi Montecucco che vanta 70 anni di attività per opera del fondatore Armando ed ora gestito da ben tre generazioni di Roberti la famiglia Roberti è una vera azienda sono tantissimi sono abbiamo fatto il compleanno qui con loro avevano riempito quasi una sala di 200 persone adesso io mi sposto dalla parte insomma dove c'è il cuore pulsante la tensostruttura dove c'è tutta la cucina che serve tutte le persone che vengono qui a loro io mi metto in mezzo a loro come vedete qui ci sono tante generazioni giovani meno giovani navigati non navigati insomma siamo in mezzo a loro vi regalo uno spaccato di questa famiglia che però crede in questa quasi una filosofia di vita insomma Marco la carne buona come era una volta e insomma pare che anche quest'anno abbiate centrato l'obiettivo perché insomma tantissimi vengono qui da voi sì siamo partiti bene siamo partiti ieri sera abbiamo fatto tanta gente anzi non che neanche l'aspettavamo sì sta andando bene la gente l'ho detto tante altre volte la gente sta premiando sempre di più perché la gente vuole la roba buona noi qui siamo a Montecucco siamo a 20 km di Daffano non lo siamo hai capito viene la gente apposta guarda proprio adesso ho avuto la soddisfazione di un signore che organizza qui il presidente di un circolo qui a Ponterio che oggi a Senigallia nei bagni 53 55 parlavano tutti di ieri del nostro vitellone che abbiamo cotto lo spiedo è stato un successo micidiale ecco la roba buona la gente la cerca sempre di più poi se guardiamo anche stasera c'è gente giovane famiglie ragazzi di tutto di più il buon cibo è una buona filosofia avranno avranno a disposizione anche domani a disposizione quelli che vogliono venire qui da voi poi ci sarete anche al paese dei balocchi con la vostra cane le vostre preparazioni facciamo un salto generazionale vado da tua figlia che naturalmente ci parla anche di quello che sarà un altro importante evento che si terrà qui a Montecucco che sarà fra poche settimane sì venerdì 19 agosto avremo l'onore di ospitare i ricchi e poveri qua nel ristorante per noi è una grandissima serata vi vogliamo invitare tutti e poi dal 23 vi ricordo che inizia la festa del Tacconi con le fave Oca e Coniglio in porchetta vi aspettiamo grigliati in festa ecco quindi avete capito che insomma qui il buon cibo non manca quindi vi abbiamo regalato questo spaccato a proprio ora di cena con lo splendido tramonto su Montecucco io vi lascio e mi raccomando buon cibo e insomma vita sana possibilmente ciao alle prossime vi restituisco la linea allo studio bene grazie Alino Balestra e i suoi ospiti questa sera vi ricordo la BCC Arena sul palco salirà la compagnia dialettale del Gallo che porterà in scena lo spettacolo La vita è una lotteria l'inizio dello spettacolo per chi ci segue nell'edizione delle 20 e 30 è tra pochissimi minuti alle ore 21 il telegiornale è finito grazie per averci seguito a voi tutti gli auguri di una buona serata grazie a tutti